Ciao ragazzi, le notizie di oggi riguardano in qualche modo Spezia Roma perché è arrivata la notizia che il centrale polacco Kivior tra l'altro sul quale era anche la Roma un giocatore che è andata anche la Roma a un certo punto un giocatore che vista i mondiali non è che mi avesse proprio entusiasmato però evidentemente viene molto considerato perché avrà delle qualità anche atletiche sicuramente è stato preso dall'Arsenal quindi volerà a Londra domani dopo Romani quindi non sarà in campo contro la Roma che diciamo la verità è anche una bella notizia poi c'è il discorso Zaniolo Zaniolo secondo Gianluca Di Marzio il suo procuratore mi pare che si chiami Vigorelli mi ricordo però il nome Piero mi pare Vigorelli comunque è a Londra per trattare la cessione di Nicolò Zaniolo a una squadra di Premier partendo da una base di 40 milioni di euro di cui il 15% che non è poco andrà all'Inter perché questo prevedeva il contratto e la cosa però importante è che questa cessione se si troverà l'accordo forse con il Tottenham Zaniolo parte adesso non è che parte a giugno parte adesso quindi il fatto che parte a Zaniolo magari mi auguro che parte anche Shomurodov che mi pare che se si potrebbe vendere a 13 milioni mi pare di godare al Torino vorrebbe dire comunque avere soldi da poter investire molto rapidamente per prendere qualche giocatore che va a completare questo organico in un momento della stagione anche molto stimolante molto interessante perché il quadro che si sta venendo a delineare sembra avere determinato un'inversione di tendenza rispetto a quello che era il trend che vedeva insomma Napoli-Milani-Inter la Juve un po' in difficoltà Juve che ha faticato anche ieri in Coppa Italia con il Mondo ha vinto solo grazie a un gol di Chiesa 12 minuti dalla fine e la Roma nelle posizioni di retrovia ma adesso nelle ultime settimane invece il Milan è una squadra che ha veramente dà l'impressione di avere dei grossi problemi si può ormai parlare di crisi dopo la bruttissima partita giocata a Riad contro l'Inter non tanto per il 3-0 ma proprio per l'incapacità assoluta proprio di contrastare di contrastare gli interisti quindi molto frizzantina la situazione come sapete si è aperta un'autostrada in Coppa Italia dopo l'eliminazione contemporanea nello stesso turno negli ottavi sia del Milan che del Napoli due grossissime sorprese ma soprattutto la del Napoli che è molto sorprendente anche perché poi il Napoli stava vincendo 2-1 a 4 minuti della fine con una squadra che è l'ultima in classifica Zaniolo 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 il discorso deve essere questo noi saremmo sempre riconoscenti a Zaniolo che è stato un giocatore se partirà che ci ha fatto sognare nei primi anni sembrava veramente un crack purtroppo nella sua carriera nella valutazione di quello che è Nicolò Zaniolo peseranno sempre tanto questi due gravi infortuni che ha avuto è stato molto sfortunato però io che ho sempre difeso Nicolò Zaniolo l'ho sempre considerato un grande giocatore ero convinto che potesse diventare il miglior talento del calcio italiano tra i giovani però quando sono andato per esempio a Trento al Festival dello Sport vi ricordate quest'estate c'era Cebbino Nela Dossena c'era Repice c'era Corsini Filippo Corsini della Rai c'era Orlando Massimo Orlando che ha giocato nella Fiorentina io ho sentito tanta perplessità su Zaniolo mentre ho sentito grande convinzione sui mezzi di Federico Chiesa che ho capito che in questo momento viene considerato un po' il giocatore più importante del calcio italiano che non a caso era stato anche determinante negli ultimi europei e lì ho cominciato a sentire un Sebbino Nela per esempio che è uno che dei calcio ne mastica ragazzi dire che Zaniolo è uno che spesso sbaglia la soluzione finale a volte dovrebbe passare e non lo fa a volte dovrebbe tirare e invece fa un ultimo dribbin ma mi ha dato molto da pensare poi è arrivata la dichiarazione di Francesco Totti che è una dichiarazione sulla quale io ho abbastanza perso le speranze su Zaniolo anche se non l'ho detto nei video perché è un uomo comunque importante per la nostra squadra anche se non insegna mai ormai non insegna più questo ragazzo e lui ha detto Zaniolo non ha la testa giusta per stare nella Roma Totti che può discutere finché vogliamo tante cose ma è uno che l'ambienta dalla Roma lo conosce molto bene non bene ma molto lo conosce fin troppo bene quindi è un giudizio che pesa pesa tanto lui è uno che è molto nervoso lui è uno che prende sappiamo prende delle ammunizioni che non deve prendere delle espulsioni a cazzo di cane delle volte c'è un rapporto anche con gli arbitri difficile perché è uno che è molto ruente che non non si sa a volte non si sa frenare gli partono le bestemme gli parte questo e gli parte quell'altro fin qua ci siamo dove non ci siamo e non ci possiamo stare perché lì o lì non ti seguo più proprio come persona è quando tu ti sei strappato la maglietta uscendo dalla partita dove è uscito Roma-Genoa mi pare che fosse non sbaglio era Roma-Genoa Roma-Genoa che lui esce si strappa la maglietta bestemmia ma bestemmia nel calcio purtroppo non è una novità però il gesto di strapparsi la maglietta per me non è condonabile non è giustificabile non la puoi fare una cosa del genere a questi livelli con quella tifoseria che da 19 partite riempie lo stadio non si può fare non si può fare vuol dire non avere autocontrollo vuol dire proprio essere un cavallo pazzo lui capiscono di Roma e di La Spezia di Roma gliene frega il giusto ragazzi non pensate che questi si innamorano delle piazze destra e sinistra perché qua vediamo che questi giovani lo abbiamo visto anche con Scamacca se ne vogliono andare in Premier Scamacca era uno che giocava in nazionale italiana e diceva agli amici verrà un giorno che riuscirò a giocare in Premier League è una dichiarazione che è molto importante questa molto significativa anche sapete Willy Gnonto è andato a Lizza dove sta facendo anche bene in Premier League ormai i giovani non è più come una volta che vogliono giocare nell'Inter nel Milan che poi non è neanche semplice perché c'è un tacco di stranieri il giovane italiano guarda la Premier League è là il campionato che ritengono veramente stimolante performante allenante competitivo eccetera eccetera questa è la trisse realtà alla quale è arrivato il calcio italiano che come abbiamo sempre detto se resta fuori da due mondiali consecutivi qualche motivo c'è non può essere certamente un caso quindi se a questi ragionamenti a queste cose che vi sto facendo notare di Zaniolo aggiungiamo che lui dopo i due infortuni adesso va detta questa cosa non è stato più lo stesso giocatore di prima cioè probabilmente lo tornerà ad essere per carità io i primi mesi lo capivo lo giustificavo l'ho anche detto non pretendere che questo pronti via e va come andava prima a prendere certi rischi perché se gli salta un altro crociato io un'altra volta crociato io lo so questo qua a quest'età noi capiamo tutti quali sono i discorsi che gli sono stati fatti quando è ritornato a giocare la seconda volta questa a 22 anni c'era due crociati fatti il padre stesso che è stato sapete un ex giocatore che è il suo praticamente procuratore gli aveva detto Nicolò tu adesso devi gestirti perché in alto infortunio comincia a diventare un po' troppo pesante la cosa qua il gioco è durare tanto nella tua carriera quindi devi gestire per fatti la tua carriera fino a 32 33 34 35 quello che sarà partire con due crociati a 22 anni è una cosa molto pericolosa e quindi lui si è gestito però ha avuto un'involuzione come abbiamo detto tante volte a volte sembra che gioca più a football americano che a calcio ha questa tendenza a fare tutto da solo punta l'uomo e gli va addosso tutte le volte tutte le volte sempre a prendere la punizione ma non è il giocatore che ha l'agilità che aveva prima che ha l'incisività lui ha fatto anche dei gol prima degli infortuni che denotavano una grandissima esplosività un'agilità un'elasticità che non ha più non ce l'ha più io mi ricordo un gol mi pare al Torino che fa una roba che tira con un piede poi recupera la posizione con l'altro piede in un secondo tira con l'altro piede è una cosa strepitosa ma queste cose qua non le fa più non le conviene neanche più cercare di farle questa è la realtà ma non perché sia rotto il giocatore perché è un giocatore che nella sua testa ha un po' il freno a mano tirato questo è il quadro complessivo di Zagnolo poi c'è anche un'altra interpretazione possibile c'è questa interpretazione che lui sappiamo che tante società lo hanno cercato la Juve il Milan dalla Premia lui a un certo punto la Roma sappiamo che non è un ambiente facile perché la Roma quando le cose non vanno bene non è semplice ragazzi lo sappiamo bisogna avere la giusta mentalità la giusta tempra anche per sopportare i fischi per sopportare lui poi è anche abbastanza narcisista come vediamo quindi è uno di quelli che vanno osannati se lo critichi può reagire anche male come ha fatto appunto Contogeno che si è strappato la maglia perché a un certo punto è stato anche fischiato questo lo capisco perché è un ragazzo giovane però io non vorrei che Zagnolo che sapete noi valutavamo anche l'anno scorso 60 70 adesso stiamo già parlando di 40 diciamo che aveva lui questa voglia anche di mandarcene perché per ambizione personale non lo so non lo so per vincere di più non lo so per giocare in Champions cose di questo genere forse non ha avuto molta fiducia anche in questo progetto della Roma non lo so lui resterà l'eroe di Tirana ha segnato il gol che ci ha dato la prima vera Coppa UEFA della nostra storia diciamo la verità che è un gol che resta nella storia del calcio per quanto riguarda la Roma quindi tra l'altro anche un gol che ha segnato di fatto la prima primissima edizione della Conference League che adesso è alla seconda edizione ma fa 20-30 anni quando andremo a vedere l'Albodoro vedremo che al primo posto ci sarà scritto il nome Roma e insomma ragazzi non è una cosa da poco avere inaugurato questa bacheca dei trofei e quindi io ho l'impressione che lui potrebbe avere un po' tirato il freno a mano non ho le prove ma è una mia sensazione perché negli ultimi tempi per far scendere anche un po' il prezzo per perché se lui avesse giocato alla grande sarebbe stato incedibile nessuno avrebbe pensato di prendersi il Zagnolo a questo punto della stagione però visto lo Zagnolo che abbiamo visto in questi mesi con questo prezzo che continua a scendere perché se insegni mai io da che mi ricordo io in questo campionato Zagnolo segna un gol col Verona se non mi vorrei sbagliare io credo che abbia segnato un gol adesso in questo momento non vorrei dire una cosa inesatta ma o fossero uno due o tre cambierebbe poco ma sbagliati anche e soprattutto tanti quindi non vorrei che lui avesse un po' accompagnato visto che tanti lo cercavano evidentemente forse anche a livello economico hanno trovato i giusti diciamo le chiavi per invogliarlo capisco che per esempio Londra capisco che è una città stimolante per un giovane magari che pensa di poter fare magari conte come allenatore magari l'ha saputo non lo so il motivo non lo so comunque la realtà è questa Zaniolo potrebbe partire io lo ringrazio di tutto quello che ha fatto per la Roma è stato molto sfortunato se fosse infortunato tutte e due le volte sarebbe stata molto diversa la storia di Zaniolo alla Roma la storia anche del calcio italiano credo però io sono soprattutto un tifoso della Roma e lo strappo della maglietta non te lo perdono mi dispiace è un gesto non condonabile inqualificabile ingiustificabile è un gesto che ha rivelato secondo me anche un questo malessere nei confronti dell'ambiente perché ha visto lui vedeva che non riusciva a tornare a quello prima che il pubblico ha cominciato a spazientirsi eccetera eccetera che non riusciva a essere il protagonista della Roma come lui voleva essere come è anche stato in parte quindi lui è come se si fosse voluto liberare di questa maglietta come ha detto basta mi ho rotto le palle ed è tutta la stagione me ne vado questo è stato un po' il forse a livello inconscio forse non si è neanche tanto reto conto però è stato un gesto catartico liberatorio non ce la fa più capito ecco quel gesto però per noi tifosi è una ferita è un'offesa perché tu sei un professionista guadagni quello che guadagni ma anche se guadagni mille euro cioè perché giocare nella Roma non è un fatto solo dei soldi è un fatto anche di onore e onere che tu hai di rappresentare un popolo che non è un popolo di poco conto e non è neanche un popolo esiguo perché qui si parla di milioni di persone milioni cioè noi siamo milioni quindi mi dispiace che sia finita in questo modo mi auguro solo che questi soldi possano servire adesso perché ci servono adesso i giocatori per completare quella che io avevo presentato dopo la riapertura della stagione post mondiale come il tentativo di rimonta la rimonta della Roma verso la Champions che ormai prende corpo vista anche le condizioni del Milan che sono condizioni serie il Milan ragazzi che abbiamo visto contro l'Inter gioca senza portiere cioè Tataruzano non esce Tataruzano rimane in porta è un portiere ha sta faccia sembra più un portinaio ma neanche un portinaio un meccanico come sembra che sta dentro un'officina e lui sta lì non esce non esce non esce basso non esce alto aspetta spera è un giocatore che se tu gli tiri nelle vicinanze fa anche una parata spettacolare se ce ne arriva non ci arriva questo è Tataruzano la difesa con l'Inter è stata qualcosa di indecente perché il primo gol di Di Marco il terzo di Lautaro anche se è stato un bellissimo tocco di esterno destro ma praticamente nel primo caso Di Marco era completamente solo nel terzo questo Mori si è fatto ridicolizzare da Lautaro anche il secondo gol Dzeko fa un bel movimento ma anche Tonali non lo contrasta insomma una difesa proprio disastrosa Giroud e Hernandez sono rimasti in Catar perché si vede che sono stanchi sono arrivati fino alla finale probabilmente hanno patito anche la delusione di non essere riusciti a vincere il mondiale Leao è molto svogliato in questo periodo è un grande giocatore ma è molto svogliato e lunatico ha proprio questa faccia quando entra in campo che sembra uno che si è appena alzato dal letto e dice ma che c'è devo pure andare a giocare pure oggi così no? lo avete presente quando facevano le partite di quartiere magari andava a citofonare un amico e gli dice guarda vieni a giocare ci manca un attaccante e quello magari sta a fare altre cose che esce un po' così in pigiama e aspetta aspetta che arrivo e questo così mi dà l'impressione Leao è un peccato perché è un grande giocatore ma ha l'impressione che ha pure lui qualche rotellina il centro campo hanno anche degli infortunati per carità ho visto una squadra ragazzi il Milan alla ripresa dal mondiale si è fatto rimontare due gol dalla Roma eliminazione in Coppa Italia camorosa contro il Torino in superiulità numerica 11 contro 10 sono riusciti a perdere e sono stati eliminati a Lecce perdevano 2 a 0 sono riusciti a pareggiare ma hanno comunque perso due punti ora hanno perso male la Supercoppa Italiana per 3 a 0 con l'Inter sicuramente si può parlare di crisi la Juve aspettiamoci almeno una penalizzazione a fine stagione visto tutte le inchieste che sono in corso è chiaro che la Roma può sperare di scavalcare la Juve anche a fine stagione in forza di una forte penalizzazione che la Juve può avere quindi bisogna fare più punti possibili assolutamente se dovessimo arrivare dietro arrivare a pochissimi punti di distanza in modo da poi scavalcare la Juventus e tornare in Champions quindi è molto interessante come si è messa questa stagione molto interessante perché anche le partite di Coppa Italia sono importanti ma sono poche sono molto poche perché qui c'è Roma-Gremonese due partite di semifinale o con Fiorentina o con Torino che qualcuno mi faceva notare tu dici che la Fiorentina va in semifinale però anche il Torino di Juric non mi sembra molto più debole sono due squadre che non è semplice diciamo dire qual è la più forte nell'ottica dell'andata e ritorno vedremo ma non mi sento effettivamente che la Fiorentina sia la più forte del Torino sono due squadre da metà classifica bisognerà a vedere come arriveranno a questi appuntamenti quindi Roma-Gremonese due partite in semifinale e la finalissima che sarà contro l'Inter la Juve l'Atalanta una di queste qua che si giocherà però a Roma comunque stiamo parlando di quattro partite di cui una con la Gremonese che non mi sembra sicuramente impossibile ecco mi sembra un impegno severo per cui si può gestire bene anche a questo punto l'Europa League perché noi non ci accontentiamo troppo delle cose perché se noi prendiamo un paio di giocatori adesso fatti bene sicuramente un centrocampista poi ci vorrebbe anche un terzino destro molto forte secondo me ci vorrebbe questo qua come minimo si può ancora fare buone cose perché il calendario non è un calendario impossibile si può fare buone cose anche in Europa League perché anche il turno col Salisburgo non è certo un turno insuperabile quindi mi sembra molto interessante la situazione se noi usciamo a liberarci di qualche zavorra tra l'altro anche l'arrivo di Solbakken mi sono dimenticato di dire una cosa importante quando parlavo di Zaniolo perché poi mi sono messo a fare un po' un minestrone ricorso come al solito l'arrivo di Solbakken io dissi qualche tempo fa sto Solbakken che poi non mi sembra un fenomeno però è un esterno cioè uno che gioca sia a destra che a sinistra ma non è che Solbakken è arrivato perché vediamolo un po' sto Solbakken che se non è male al momento giusto se scede Zaniolo e andava avanti magari in paio d'anni con sto noveggese magari ce cascano come si dice perché nella rosa secondo me Solbakken non c'entrava un cazzo in questo momento qua cioè avendo Zaniolo El Sharawi Shomurodov è disperso ma i due punte ci sono che erano comunque Ebram e Belotti per quanto sia e Dybala non mi sembrava che proprio servisse un esterno e allora io mi sono ma perché Solbakken però effettivamente ho detto certo che se a giugno Zaniolo parte però Solbakken se intanto se lo tirano su se si rivela un giocatore decente possono però anche andavanti con Solbakken l'innamoramento che c'è stato per Solbakken io non l'ho capito anche perché Solbakken è uno che ha segnato poco in Norvegia ha segnato solo 13 gol non è uno che segna tanto nel modo più assoluto non è una punta e questo è il discorso lui gioca sulle fasce può giocare anche al centro dietro la prima punta ma non mi sembra un fenomeno vedremo perché tra l'altro non ha toccato una palla da quando ha esordito nell'ultima partita non ha toccato un pallone lo vedremo però anche il fatto di avere preso Solbakken a gennaio mi ha fatto pensare un po' io pensavo addirittura forse vogliono vendere ai Sharawi ho pensato questo adesso che Zaniolo sembra partire comincio a mettere insieme i vari tasselli quindi la Roma adesso ha davanti a sé un 2023 estremamente interessante ripartiamo dalla Spezia la Spezia Roma il 2 a 1,80 è una quota già molto interessante secondo me perché la Roma per me alla Spezia vince loro non avranno Kivio che come vi ho detto è stato venduto all'Arsenal vengono dalla sorprendente vittoria di Torino quindi hanno anche la pancia un po' piena hanno una situazione di classifica non disperata sicuramente non sono anche perché ormai si è delineata già un po' la credo si è delineata la situazione per la retrocessione con le tre Verona Cremonese e Sampdoria che sembrano spacciate quindi lo Spezia farà la sua partita ma la Roma è una squadra che tecnicamente dovrebbe avere qualche giocatore in grado di fare la differenza come appunto il solito nostro campione di bala ma in generale credo che la Roma possa passare alla Spezia andiamo avanti e vediamo in questi ultimi giorni se si troverà l'accordo per cedere Zaniolo e che cosa succederà in entrata per rinforzare una rosa che sicuramente ha bisogno diciamo un sacco di tempo di un aggiustamento perché ha pagato questa rosa alcuni errori del passato Sciomuro Dovigna questa gente qua Cardop anche Selic purtroppo io li voglio bene ma non è questo fenomeno se vi serve puntellare questa rosa se riusciremo a puntellare questa rosa quest'anno ci divertiamo grazie a tutti Forte a Roma